Flavio Briatore sta tornando gradualmente alla sua vita di sempre, anche se nulla per lui sarà più. Dopo l'intervento al cuore per rimuovere il tumore, l'imprenditore ha uno sguardo diverso e apprezza ancora di più quello che ha costruito in ambito professionale ma soprattutto prima. E poi tanta gente che continua a dimostrargli affetto. Rientrato già a lavoro da qualche giorno, Briatore sta recuperando alla grande ed è al settimo cielo per come sono andate le cose. Grazie alla prevenzione ha potuto prendere in tempo il tumore e risolvere velocemente questo serio problema di salute, e adesso si concede anche qualche. Il patron del Twiga si è regalato un'opera di Mimmo Rotella, artista di origine calabresi protagonista della scena artistica europea del secondo novecento, famoso per i suoi dec. Un quadro di Mimmo Rotella può valere dai centomila euro fino a un milione, un T-LED, del 1964, è stato venduto nel 2016 a Londra per un milione quattrocento. Un quadro di Rotella può valere da a casa con Mimmo Rotella scrive orgoglioso l'imprenditore nel post su Instagram, dove si immortala sorridente davanti al suo ultimo acquisto. Un regalo meritato dopo il grande spavento, un post condiviso da Flavio Briatore Chiocciola Briatore Flavio.